Ehi, Bart, ti va bene se il resto? Bart! Beh, hai scelto un gran brutto momento. Se fosse stato... Non c'era problema, ma... Dovrei lavorare a questa nuova idea e... Anzi, forse bisogna parlarne, credo che ti piacerà. Ma non smetterai mai, Bart! Di fare che? Di combatterci, di buttarci fuori. Chi? Come chi? Noi, noi! Noi, gente che ha bisogno d'altra gente, non sono tue queste parole? La vuoi piantare con queste distribuzioni di colpa? Io non voglio essere coinvolto. Qual è il tuo problema, Bart? Problema? Già! Perché pensano tutti che ci sia un problema quando vuoi star solo? È il modo che ho scelto per vivere la mia vita. Bene. Zack. Io non la voglio una relazione, capisci? Io sono felice così come sono. Ma... Io non la voglio una relazione, capisci? Grazie a tutti